Io sono Tatiana Milone, sono un architetto, lavoro a Milano, ho un accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano e collaboro con il MDM program di Tonjin e già l'anno scorso abbiamo avuto una sessione sugli uffici ed è stato molto interessante lo scambio con professionisti di un altro mondo con un unico però scopo comune che è quello di fare dei bei progetti. Quindi molto piacevole e molto utile questo scambio. La mia società che si chiama TMSRL è attiva dal 2008. Noi diamo dei progetti completi di progettazione integrata e abbiamo una abitudine e un metodo di lavoro consolidato che ci porta ad utilizzare la nostra conoscenza dall'inizio del processo fino alla fine. Facciamo anche per dire l'assistenza al fit out finale. Molto specializzati in uffici ma stiamo facendo anche residenza e hotelleria. In questi ultimi anni abbiamo fatto importanti interventi. Il Palazzo della Regione, edificio molto importante a Milano, progettato e vinto con un concorso internazionale dallo studio PayCob di New York. Noi abbiamo collaborato per tutta la parte di space planning e interior design. Una bella esperienza perché lo studio americano ha un metodo di lavoro molto standardizzato ma molto umano e molto di grande comprensione e di attenzione ai modi di lavorare diversi che ritengo che sia un bel elemento anche di facilità dell'iter progettuale. Molto importante con loro è veramente il lavoro di equip. Loro sanno lavorare in team, sanno benissimo utilizzare le specializzazioni di ognuno e la cosa fondamentale quando abbiamo fatto il secondo edificio Palazzo per Ufficia di Istanbul, di Finance Bank, la loro prima sessione di inizio commessa è stata quella in cui gli specialisti erano seduti intorno al tavolo e c'erano quindi gli elettricisti, gli impiantisti, gli ingegneri strutturisti e c'era la parte grafica e c'ero io come space planning e layout e il capo progetto ha detto questa frase che io non ho mai sentito in vita mia quindi mi sento di dirla con grande piacere. Siamo qui riuniti intorno al tavolo perché ognuno di voi con la sua specializzazione è il valore aggiunto al nostro progetto che è un concetto bellissimo di stiamo lavorando insieme per fare un buon progetto. Quindi io ritengo che la cosa più importante in un corso in cui si sta insegnando un metodo sia proprio illustrare bene le fasi con cui si deve operare e soprattutto gradino dopo gradino dare gli elementi che sono importanti per arrivare ad un buon risultato. Naturalmente è fondamentale fare un focus sul cliente e capire bene quali sono i proprio le richieste e le necessità del cliente. Poi avere degli schemi diciamo di modularità per cui lavorare bene nello spazio ma soprattutto con una conoscenza tecnologica di tutti quelli che sono gli elementi al contorno di un interior design quindi anche gli impianti e anche la parte strutturale dimensionale in modo da arrivare a una soluzione che dia flessibilità e che dia nel tempo la possibilità di modificare e di avere cambiamenti all'interno del progetto. Il progetto non deve essere un progetto fermo e non deve essere un progetto non in movimento. Deve essere possibile nel tempo adattarlo modificarlo senza costi eccessivi perché bisogna avere delle conoscenze tecnologiche tali da poter eseguire un progetto flessibile. Naturalmente è fondamentale mantenere la curiosità su tutto quanto quindi una curiosità sui nuovi materiali, sulla sostenibilità, sui dettagli delle soluzioni e naturalmente la cosa fondamentale è la creatività che non si insegna ma che deve esserci.